Domani l'atteso vertice a Palazzo Chigi a Roma sulla TAV, sindaci rappresentanti dei territori della Valsusa con regione e provincia di Torino comune, si ritroveranno faccia a faccia con il governo e molti sperano in un incontro che dia davvero il via al conto alla rovescia per la realizzazione effettiva della Torino-Lione. Protestano intanto i comuni esclusi dall'incontro. A Palazzo Chigi l'ultima volta fu due anni fa, nel 2009, quando il governo incaricò l'osservatorio di Mario Virano di preparare i progetti preliminari della nuova ferrovia Torino-Lione. Ora i progetti ci sono, sono due, quello italo-francese firmato LTF, 65 km tra le due stazioni internazionali, Saint-Jean-de-Morien in Francia e Susa in Italia, in mezzo il lungo tunnel di 57 km sotto le Alpi. Poi c'è il progetto italiano firmato Italfer, ovvero la nostra rete ferroviaria. Il progetto internazionale è ormai in dirittura d'arrivo, quello italiano è stato mandato a tutti i comuni, il 27 maggio ci sarà la conferenza dei servizi, ognuno dirà la sua. Domani dunque il governo darà il via alla Torino-Lione che verrà costruita per fasi. È stato Mario Virano a ideare il fasaggio che consente anche un taglio all'investimento iniziale. Subito dunque vedremo i due estremi dei 130 km, la parte internazionale da un lato e il nodo di Torino dall'altro. Soltanto in un secondo momento la tratta intermedia nella piana della Val di Susa. Ricordiamo che la costruzione della nuova linea Torino-Lione durerà 10 anni, dal 2013 al 2023. Alla vigilia del via libera del governo di domani il governatore Cota dice si deve partire perché così si cancellano le polemiche. Davanti a Palazzo Chigi domani si annuncia un presidio notave, protestano i sindaci esclusi dal tavolo con il governo. Il coordinamento antitave alle ASL sostiene che i cantieri della Torino-Lione aumenteranno l'inquinamento e invitano i presidi di Orbassano e Riboli a stare attenti.